Il caporalato sta tornando anche in Abruzzo nella sua elementare rozzezza culturale di sopraffazione dei diritti dell'uomo e del lavoratore ma con gli strumenti di una innovativa e sofisticata ingegneria criminale. L'intermediazione abusiva di mano d'opera trova una sponda facile nella legislazione più fessibile del mercato del lavoro. Il fenomeno ha avuto un momento sicuramente di scomparsa negli anni passati. Oggi la legislazione lavoristica consente di presentarsi attraverso nuove forme. Una delle forme più diffuse per esempio è quella delle cooperative. Le cooperative che si rivolgono ad un padrone per esempio di un terreno e gli vendono il lavoro delle persone associate fittiziamente alla cooperativa. In realtà realizzano una intermediazione di mano d'opera illegale che sfrutta le persone, le paga di meno ed evade tutte quelle che sono le normative legislative dal punto di vista contributivo e fiscale. Drogando l'economia anche da questo punto di vista perché è chiaro che un sistema di questo genere nuoce anche alle imprese che invece si comportano correttamente. In Abruzzo si accenderanno per la prima volta dal dopoguerra i riflettori su questo fenomeno grazie ad una iniziativa promossa giovedì prossimo dalla CGL e dalle sue categorie degli edieli e dei lavoratori agricoli a Pescara. Occasione in cui verrà lanciata anche in Abruzzo la raccolta di firme nazionale per promuovere una legislazione più stringente per combattere il fenomeno. Abbiamo lanciato questa campagna chiamata Stop Caporalato dove chiediamo una raccolta di firme online, una petizione a sostegno di una proposta di legge proprio per fermare questo fenomeno. Quali diritti vengono azzerati nei confronti di questi lavoratori? Praticamente tutti perché vi è un'evasione contributiva, un'evasione fiscale e una parte del guadagno giornaliero va diviso col caporale. Le cifre, le poche possibili per un fenomeno sommerso per definizione, sono in Abruzzo comunque allarmanti. Nonostante dal 2008 al 2010 le ispezioni siano state dimezzate di numero, i lavoratori irregolari in agricoltura sono saliti in un biennio da 200 a 339 e in edilizia da 432 a 875. È un fenomeno che socialmente viene tollerato al mezzogiorno e questo è l'aspetto più inquietante perché è l'aspetto sociale quello più pericoloso oltre a quello dei diritti negati. Sì perché si svaluta completamente il lavoro delle persone, lo si fa diventare una merce che si compra al prezzo più basso tra l'altro e si produce attraverso questo sistema un meccanismo sociale di minorità per le persone che ne sono colpite, che diventano invisibili non solo nei luoghi di lavoro e per quello che riguarda i loro diritti ma anche all'interno dei paesi, delle comunità con il risultato di creare nelle situazioni più difficili anche possibilità esplosive di rapporto con le comunità territoriali.